Francamente nei confronti di Mr. Sander mi sembra di poter vivere che ci sia stata una sorta di pregiudizio negativo che non sono da cosa dipende, forse perché è una persona molto disarparata proprio perché anche Mr. Sander fa i suoi ruoli come faccio io, come faccio io, come faccio io però insomma mi sembra di vivere una situazione per cui stiamo all'indicesima giornata e abbiamo sei punti tassitiche questa è una città che forse vive troppo in eccesso, invece molto anch'io, sia positivi che negativi questo è un minimo avviso, capisco il tipo, capisco la passione, che è una cosa importantissima anche oggi ne ha tantissimi spettatori, io ringrazio di essere venuti e chi viene allo staglio, la famiglia già sempre è un atto di critica, è sacro santo grazie